Ciao a tutti, è possibile essere single e felici? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, e veniamo agli appuntamenti, gli appuntamenti che sono l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo 9.30-19, autostima e seduzione, innamora al lavoro, per l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo, ore 20.45, elimina i blocchi emotivi per avere la felicità che merita e riferimento sempre al 333 15 11 703. E ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me e puoi abbonarti al canale Felicità e Benessere per avere visibilità durante le live. E veniamo al tema. È possibile essere single e felice? Certo che è possibile. Anzi, diciamo così che essere single offre diversi vantaggi rispetto all'essere in coppia. Diciamo, essere single intanto può garantire ad esempio un'attività sessuale più libera e più intensa rispetto alle persone che vivono in coppia, che magari dopo un po' di tempo hanno, come dire, la possibilità di fare sesso in modo, come dire, all'interno della coppia, in modo rutinario, abitudinario, insomma, gira meno adrenalina. Se uno delle avventure, delle situazioni di questo genere possono dare più adrenalina da questo punto di vista. Tra l'altro un'altra cosa, è molto importante non attribuire la felicità allo stare in coppia, perché se tu attribuisci la tua felicità allo stare in coppia, vuol dire che è delegato all'altra persona la tua felicità e la tua infelicità. E questo non dovrebbe accadere, cioè nessuno dovrebbe avere nelle nostre mani la propria felicità, la nostra felicità. Allora, essere single ti permette sicuramente di, dei vantaggi uno, di fare quello che vuoi, ad esempio, dedicarti alla tua crescita personale, dedicarti a riconoscere te stesso. Certo, per carità, puoi farlo anche in coppia, però, diciamo, se sei single non hai veramente da, come dire, dare giustificazione a nessuno sulle cose che tu fai alle volte, ci sono rapporti di coppia che sono invece vincolati, diciamo, vincolati e quindi hai difficoltà anche a intraprendere un percorso di crescita personale, che magari comprende, che ne so, uno diventa buddista a fare dei ritiri. Insomma, essere single ti permette di concentrarti di più su te stesso e migliorare te stesso, perché, in realtà, non che questo non possa accadere in un rapporto di coppia, però è importante, diciamo, rendersi conto che da soli abbiamo possibilità di, più possibilità di fare questo. Un'altra cosa molto importante è che possiamo rafforzarci, perché se tu, diciamo, impari a vivere bene da solo, a stare bene da solo, interagendo ovviamente con gli altri, beh, impari a uscire fuori dalla tua zona di comfort. Spesso nei rapporti di coppia ci si crogiola in una routine abitudinaria data dal rapporto di coppia, poi quando la situazione non funziona e magari finisci, tu ti trovi senza aver imparato a vivere da solo. Quindi imparare a vivere da soli è una cosa fondamentale, è una cosa veramente fondamentale. Dovrebbero farlo tutte le persone anche in coppia. Cioè in coppia si dovrebbe stare, ma vivendo bene da soli, perché questo è fondamentale. E poi essere single ti permette di osservare e di, se non hai fretta, e se ti trovi bene nella tua condizione di single, poter trovare veramente la persona giusta, ma non una persona che poi vuoi trasformare, adattare, una persona che vuoi condizionare in qualche modo. No, ti prendi tutto il tempo, puoi stare single tutto il tempo che vuoi, nel frattempo ti fai tutta la tua vita, tutte le tue esperienze, ma poi a un certo punto potrai trovare una persona con la quale condividere un percorso di cammino assieme. L'importante è che questo percorso sia un percorso di cammino, non farsi portare un braccio da qualcuno, diventare dipendente da qualcun altro. Tieni presente che poi un'altra cosa fondamentale è che noi non siamo mai soli, anche se siamo single, anzi, probabilmente essendo single abbiamo più contatti anche con le persone, quindi c'è molta più possibilità di arricchirsi. Quindi è possibile essere single e felice, anzi, spesso sei più felice da single che in coppia, a meno che non... soprattutto se si cerca una coppia per bisogno, per bisogno d'amore, per paura della solitudine, insomma, le cose fatte per bisogno e per paura non vanno mai bene. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo gli appuntamenti di... Milano, domenica 1 marzo, autostima e seduzione, innamore nel lavoro, l'appuntamento di Torino, venerdì 6 marzo alle 20.45, elimini i blocchi mentali per avere la felicità che merita, il riferimento è il 333 15 11 703. Bene, per questo video è tutto, ricordati di abbonarti oltre che iscriverti al canale Massimo Terramasco e al canale Felicità Benessere. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!